Promettiamo anche il bombarolo e ci facciamo la terza turma. 1.000.5.0. E adesso fanno tutto da sé. Due mette mini pecca va bene, però quelli sgherri hanno fatto i danni. 3 a 0 signori, anche la seconda. Bene, molto bene, siamo a 360 trofei, attenzione, baule magico. Bentornati su Clash Royale. Allora, l'obiettivo di oggi è cercare di salire di coppe per arrivare all'Arena 3. Dunque, siamo a 300 trofei, siamo in Arena 2 e dobbiamo sbloccare qualche nuova carta. Carte da trovare sono queste qua. Abbiamo fatto il risuconto l'altro giorno e io direi che adesso ci apriamo questo bel baule. Vediamo che cosa troviamo. Oro, gli sgherri, goblin lancieri e gabbia per goblin. Niente che ci interessi più di tanto. Poi, prima di mettere a sbloccare questi, andiamo a fare qualche partita. Vediamo se possiamo sbloccare gli sgherri. Sì, abbiamo i soldi necessari. Li aumentiamo subito di livello. E possiamo partire subito. Ah, ritiratemi, attenzione. Siamo saliti a livello 4, facendo salire di livello... Che dice lui? Sono arrivati gli artefatti, ok. Iniziamo con i jolly. Prova ad usarli. Allora usiamoci questo jolly. Ok, fanno avanzare di progresso. Che cosa sblocchiamo? Direi gli arcieri. 10 jolly, ok. Quindi abbiamo trovato 10 carte arcieri con i jolly. Va benissimo. E possiamo anche decidere di aumentare subito di livello. 150 non li abbiamo, però quassù c'è baule di livello sbloccavo. 1000 oro. Oh, abbiamo sbloccato la lapide. Abbiamo sbloccato l'orda di scheletri. Che è una carta epica. E bene, ma soprattutto abbiamo i soldi. Abbiamo queste carte, ok. Ok, ma abbiamo i soldi, dicevamo, per aumentare di livello il gigante. Cosa che facciamo immediatamente. Benissimo. E anche gli nostri arcieri. I gemellini arcieri. Bene, gemellini arcieri a livello 5. Adesso signori, possiamo... Un altro premio. Altri 500 oro. Va bene, prendiamo e portiamo a casa. Possiamo ritirare il baule. Bene, sblocchiamo un altro baule. 316 oro. Abbiamo sbloccato finalmente la valchiria. E questa è una carta che però... Io vorrei mettere... Tanto aspettate che abbiamo un altro baule. Abbiamo sbloccato il bombarolo. Un altro baule ancora. Va bene. Ancora un altro baule. No. Soglia 20, provocazione. Ok. Non ci dovrebbe essere altro. Invece sì. E noi ce lo prendiamo. Che ci importa? Soldi, gemme, valchiria, mini pecca, moschettiere e frecce. Ora, devo capire, c'è qualcos'altro? Soglie 10. No. Teoricamente no. Ok. E dicevo, volevo provare a mettere la valchiria e il bombarolo. Ma... La valchiria sarebbe a livello 4. Ok. Quindi possiamo anche metterla. Mettiamo la valchiria al posto del cavaliere. Ok. Poi abbiamo frecce, moschettiere. Possiamo anche migliorarlo. Tanto adesso i soldi li abbiamo. Bene, miglioriamo il moschettiere. E vorrei provare a mettere il bombarolo. Ma sinceramente non saprei cosa togliere. Potremmo togliere le frecce in realtà, comune per comune, e migliorarlo. E proviamo a fare così, vediamo cosa viene fuori. Robarolo, livello 3. Livello 4. E penso basta, sì. E già che ci siamo, visto che i soldi ora li abbiamo, miglioriamo anche la palla di fuoco, che non si sa mai. Palla di fuoco, livello 5. Insomma, direi che il nostro mazzo adesso è parecchio potenziato. Intanto abbiamo sbloccato le scheletrini, perfetto. Adesso, ufficialmente, lo prometto, partiamo. Allora, pronti con la prima battaglia del gioco. Arena 2. Siamo contro Valentin. Abbiamo subito la Valkyria, così la proviamo immediatamente. Qui partiamo con il Moschettiere e gli Esgherri. Mettiamo la Valkyria contro gli Arcerini. Benissimo. Vediamo come se la cava contro il Minipecca. Fa una bruttissima fine, ma è normale. Ma tanto ci pensa il nostro Moschettiere. Ok. Siamo in fase di stallo. Abbiamo subito 600 danni, circa. e possiamo partire in contrattacco. Mettiamo il Gigante con gli Arcieri dietro e metterei anche il Bombarolo. E adesso quel Gigante se ne va a fare i suoi danni. Allora, siamo passati in vantaggio, diciamo, rispetto a lui e gli abbiamo fatto la torte. Ottimo. Poi adesso, visto che lui non si è mai intenzionato a fare altro, mettiamo anche il Bombarolo e ci facciamo la terza torte. 1.000 5 0 Perfetto. La prima è andata. Semplice, semplice. E ci siamo fatti le nostre 30 coppe. Le prime 30 coppe della giornata. Qui che dice? Ok, va bene. Questo qua lo faremo poi. Ritiriamo il premio. Ce n'è un altro. Soglia 2 sbloccata. Dov'è il premio? Eccolo. Un baule con carte jolly rare. Ok. Ho trovato un po' di Giganti. C'è altro da sbloccare, vediamo. Sembrerebbe di no. Ok. Non possiamo potenziare niente e andiamo con la seconda. Dov'è vedere se riusciamo ad arrivare a 400 trofei. Così, al volo. Senza perdere le punte. Allora, Moschettiere. Non abbiamo il Gigante. Lui là mette un bel po' di roba e noi mettiamo gli Arcerini e il Bombarolo. Poi mettiamo il Mini Pekka per il suo Gigante. Intanto il Moschettiere là... No, ha trovato il Mini Pekka. Va bene, va bene. Ok. Tanto di qua le nostre truppe se ne vanno. Se ne vanno. Dai, Mini Pekka, da un colpo? Sì, uno, anche due. E si fa la torre. Attenzione. Mini Pekka, quando va, va. Allora, qui... Niente, l'Arciere ha fatto il suo lavoro e noi possiamo ripartire. Gigante. Moschettiere dietro. Io quasi, quasi, quel Gigante lo lascerei andare. Sì, 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 sì. Noi ce ne andiamo in contropiede di là. Che al massimo ci metto gli Sgherri. Intanto Gigante Moschettiere e la torre se la fa il suo viene fermato dagli Sgherri. Senza problemi. Qui mettiamo una bella Valkyria. E siamo nettamente in vantaggio anche in questa partita. I nostri Sgherri battono i suoi. Qui mettiamo un bel Moschettiere. E adesso fanno tutto da sé. Qui mette Mini Pekka, va bene. Però quegli Sgherri hanno fatto i danni. 3 a 0, signori. Anche la seconda. Bene, molto bene. Siamo a 360 trofei. Attenzione, baule magico. Allora, abbiamo trovato il baule magico. Qui, inoltre, possiamo ritirare comuni. Prendiamo, ovviamente, il Bombarolo. E già che l'abbiamo presi, l'andiamo subito a potenziare. Lo portiamo a livello 5. Migliora. Ok. Dunque, dunque. Siamo rimasti qui che dobbiamo sbloccare il magico. E siamo rimasti a 360 trofei. Partiamo subito per i 3,90. Due vittorie su 2, 3 a 0. Direi che il nuovo mazzo funziona alla perfezione. Siamo contro Vitor. Non abbiamo di nuovo il gigante all'inizio. Però possiamo fare tranquillamente una cosa di questo tipo. Lui di là mette Bombarolo e Cavaliere. E noi possiamo fermarlo con Moschettiere qui. Arcieri di qua. E no, è rimasto un arciere solo lì. Questo è un problema grosso. E lì ci fanno la torre. Bene, una torre per lui è andata. Vediamo se riusciamo a fare arrivare il mini pecca. No, mette il mini pecca anche lui. Non ci ha fatto la torre ma ci manca pochissimo. E la cosa buona è che noi gliel'abbiamo... Non ammezzate ma quasi altre due. Dunque ci conviene partire dalla parte di qua dove abbiamo la torre... Quasi andata. Ok, gigante. Mettiamo Moschettiere dietro. E qua... Dovremmo fare quasi una pallata di fuoco. Pallata, pallata. La fa anche lui. Ok. Il nostro rimane in vita per fortuna. Il suo no. E non ci hanno ancora fatto la torre. E vediamo se quel gigante riesce a farsi la torre. Forse no. Però insomma abbiamo recuperato un bel po', eh. Inoltre non scordiamoci che noi abbiamo levato danni anche all'altra torre. Il problema è che adesso quel mini pecca i danni li fa a noi. E invece no. Attenzione. E' andata super bene. E ripartiamo velocissimamente da quest'altra parte. Farei anche mini pecca. Questo che lui ha messo la valkyria. Metterei gli sgherri. Qui butterei palla di fuoco nel mezzo. Veloce, veloce. Ottimo, ottimo. Poi mettiamo la valkyria in mezzo a tutta la sua roba con il bombarolo. Mettiamo arcerini. Perfetto. Mettiamo sgherri. Ognuno ha fatto il suo lavoro. E partiamo con gigante da quest'altra parte. Qui dobbiamo fare palla di fuoco assolutamente. Dai gigantino, dai gigantino. Perfetto. Qui mettiamo arcieri. Mettiamo sgherri. E teoricamente siamo in super vantaggio noi. Adesso partiamo con gigante qua nel mezzo. E appena la palla di fuoco si butta lì nella mischia. Qua così. E... E' andata ragazzi. Eccola lì. 2 a 1. E anche la terza vittoria è andata. Siamo a 390 trofei. Quindi, ovviamente non abbiamo più lo spazio per i bauli. Però, se noi vinciamo l'ultima partita, siamo sopra i 400. Un'altra soglia sbloccata. Un altro baule. Quindi vuol dire altri soldi. Bene, 320. Ehm... Ok. Ok. Bene ragazzi, io direi di fare l'ultima partita e vedere se riusciamo a superare le 400. Allora, il nostro avversario è un livello 4 come noi. Abbiamo il gigante in mano questa volta. Da subito. Lui mette il principe. Ne mettiamo la valchiria con gli sgherri. Benissimo. Il principe non arriva a torre. Ottimo. E vabbè, cucciola di drago. Bene, così. Ci leva un po' di danni, ma niente di che. Poi metterei... Il moschettiere qua dal fondo. Così si occupa delle sue truppe. E quel mini pecca fa male. Quel mini pecca fa male. Quel mini pecca fa male. Dai bombarolo. Dai bombarolo. Ai 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 ai. Questa arriva. Eh sì sì sì. Adesso ho danni. Con tre colpi ci ha portato a 64 la torre. Capola, il principe è a livello 7. Le sue truppe sono altissime. Anche il cucciolo di drago. Eh... Mi sa che questa non ce la facciamo. Mi sa che le 400 coppe non si superano. Mi mette il cavaliere. Noi troviamo col mini pecca. Ma... Sarà molto dura. Troviamo col bombarolo. Ah inoltre lo stanno anche guardando e incitando. Dai bombarolo. Perfetto. Un colpo l'abbiamo dato. Adesso dobbiamo caricare. Che lui riparte sicuramente col principe dall'altra parte. Teniamo pronta la valchiria. Eccolo lì. Tiamo valchiria. Questa volta abbiamo anche il moschettiere. Eh però. Ovviamente lui è al principe a livello 7. Noi abbiamo la valchiria a livello 4. Sarà molto dura. Questa la perdiamo al 99%. Cuccio di drago lo lasciamo stare. Mettiamo qui il bombarolo. E qua gli arcieri. Dai gigante. Dai. Dai. Ok. Non abbiamo fatto la torre ma insomma. Qualche danno in più l'abbiamo fatto. Mettiamo gigante. Con arcieri dietro più il cucciolo di drago. No ho messo il mini pack. E niente. È andata. Ecco il suo gigante. Questa volta è un po' 3 a 0 per lui. No. 2 a 1. Ragazzi. Dobbiamo fare i complimenti al nostro avversario. Perché è stato molto più bravo. Abbiamo perso contro un avversario con delle truppe non male direi. Aspettate che penso che si possa vedere. Se mi ricordo come si fa. TV Royale. Eccolo qui. No. Per vedere le nostre partite. No. Non è TV Royale. Registro attività. Allora. 7. 6. 6. Ma in realtà non erano neanche. Non erano neanche molto più alte di noi. I livelli delle sue truppe. A parte la nostra valkyrie a livello 4. A parte le comuni. Però aveva il cucciolo di drago. A livello 7. Che ci ha fatto patire. E soprattutto il principe. Vabbè. Non è un problema. E visto che siamo a 376. Io direi di fare un'altra partita. Per vedere se almeno questa volta riusciamo ad arrivare a 400. Allora. 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 Abbiamo il moschettiere. Tra l'altro l'unica volta che avevamo il gigante in mano di partenza abbiamo perso. Quindi speriamo che ora non lo abbiamo. Che porti bene. Io intanto parte fortissimo. Con gigante e mini pecca. Gli sgherri sono andati sul cavaliere. Hanno capito subito tutto. Però comunque sia. Anche noi i nostri danni li stiamo facendo eh. Dall'altra parte. Una torre per uno. Tra l'altro mi dà l'idea che lui sia senza elisir. Che noi attacchiamo ovunque. Ecco riecco il cucciolo di drago. I nostri arcirini lo fanno fuori immediatamente. Qui ragazzi è scoppiato un macello. È stata la vendetta per la partita di prima. Ci siamo vendicati con questo povere ragazzo. 3 a 1. Subito così. Agile agile. 32 trofei. Bene bene bene. Siamo finalmente sopra le 400 daccele. Le 400 coppe. Allora abbiamo un baule. Ci apriamo l'ultimo baule del video. Della giornata. Ok. Bene ragazzi. Direi che il nostro obiettivo di giornata. Anche se con una partita in più. Invece che 3 ne abbiamo fatte 4. O 5. Non mi ricordo. 5 mi sa. E però. Siamo riusciti ad arrivare al nostro obiettivo. Quindi per oggi è tutto. Vi ringrazio per la visione. Se il video vi è piaciuto. Vi invito a lasciare un bel like. E ad iscrivervi al canale. E niente che dire. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.